A Nazareth si compie la scrittura e in Gesù diventa un oggi. La liturgia mette in luce l'identità profonda della Chiesa. Abbiamo per questo, per capire meglio tutto ciò, padre Ernesto della Corte, il nostro biblista che torna anche oggi. Bentrovato, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana, che bello, oggi siamo a Nazareth con questo oggi che tu giustamente hai messo in evidenza, oggi. Dico subito che Cristo Gesù è l'oggi del Padre. Questa parola che nel Vangelo di Luca ricorre spesso, l'abbiamo vista anche a Natale, oggi per voi nella città di Davide, che bella questa parola. Oggi Gesù lo dice ancora una volta, oggi è portata a compimento questa scrittura. Oggi io vengo a casa tua, dice a Zaccheo, oggi sarai con me in paradiso. Potremmo dire che questo termine, Seneron, oggi, oggi, per quattro volte viene continuamente citato da Luca per ricordarci il kairos, cioè il tempo di grazia. Gesù è colui che rappresenta il padre, l'abbiamo visto al battesimo, è lo sposo che abbiamo visto a Cana domenica scorsa. Oggi lo vediamo appunto come il tempo propizio, in lui possibile fare il passaggio dalla morte alla vita. Ma il testo di oggi, che è un testo costruito perché noi leggiamo il famoso prologo di Luca, i primi quattro versetti, e poi leggiamo l'episodio di Nazareth. Innanzitutto quel bellissimo prologo nel quale Luca ci ricorda, lui ha scritto, abbiamo detto tante volte, in tarda età. Luca ha seguito Paolo davvero per tantissimi anni, è stata la persona forse a lui più vicino. Luca è una persona di grande cultura, oltre che essere un medico, era un uomo che veramente si era formato alla scuola di Paolo e di Barnaba. Luca scrive in Boezia, quando ormai è morto già Paolo, negli anni Ottanta, come dicevamo, e scrive ricordando che prima di lui tantissimi hanno messo mano ai cosiddetti detti e fatti di Gesù. E lui scrive a un certo teofilo, parola, termine che significa filosteù, amico di Dio, un personaggio che deve essere stato molto illustre, molto conosciuto nelle comunità, ma in realtà questo nome poi nasconde anche una simbologia. Chiunque medita il Vangelo, dice Luca, diventa teofilo, cioè filosteù, amico di Dio. Qual è la novità, dice Luca nel prologo? Io scrivo tutte queste cose dopo che altri lo hanno già fatto, perché tu, illustre teofilo, Kratis te lo chiama, possa renderti conto della consistenza degli insegnamenti che hai ricevuto, di questa catechesi vera e propria che tu hai ricevuto. E così lui può annunciare esattamente Toneu Angelia, la bella notizia del che è il Vangelo. Luca parla degli avvenimenti che sono stati portati a compimento tra di noi. Che bella questa espressione, portati a compimento tra di noi. Lui fa parte di questa comunità e sono infatti accaduti in quel triennio prepasquale, come dire anche nell'inizio degli atti. Le scritture si sono compiute. Il progetto di Dio, che Paolo chiamava misterion, mistero, questo progetto di Dio sulla storia, nel suo insieme e sull'uomo in particolare, si fa sempre più chiaro. È così che anche Luca inizia questa ricerca minuziosa, dettagliata, fatta con molta acribiglia, dice lui, perché poi ci sia un racconto, una diegesis ordinata, che sia carica di forza di persuasione. Qual è lo scopo di Luca? Mettere il lettore in grado di andare al di là del racconto per cogliere il messaggio dei fatti e dei detti raccontati, in modo che ogni persona possa fare esperienza di questo testo. Certamente Teofilo sarà stato un funzionario illustre, un mecenato romano, una persona comunque molto ben disposta verso il cristianesimo, oppure può essere un personaggio di rilievo nella chiesa di Antiochio di Siria, dove Luca ha incontrato Paolo e Barnaba. Lui di certo questa forza del nome a noi dice una cosa, siamo chiamati tutti ad essere teofili, ecco perché ogni domenica, Pasqua della settimana, la chiesa ancora una volta ci fa percorrere i sentieri delle scritture dall'Antico Testamento e poi questa pagina meravigliosa del Vangelo che ogni domenica scandisce il nostro percorso. Il testo viene unito al celebre episodio della sinagoga di Nazareth, potremmo chiamarlo il programma di vita di Gesù. Abbiamo visto un'escalation in queste domeniche, fin da quando aveva 12 anni lui deve essere nelle cose del padre, viene rivelato ai magi, quindi alle genti, lui è la rivelazione del padre, abbiamo visto nel battesimo che lui rappresenta il padre, è la misericordia del padre, a Cana abbiamo visto che è lo sposo, ora questo sposo ci dà il suo programma. Gesù è venuto per distruire le genti, spinto dallo spirito, gli apostoli dovranno continuare questa rivelazione dopo la Pasqua. In quel sabato solenne, siamo a Nazareth, viene portato il rotolo, Gesù lo apre, c'è un segno dove la lettura si era fermata, che è data dal capitolo 61 del grande terzo Isaia. E allora questo testo viene ascoltato, Gesù se ne avvale. Potremmo dire che quel giorno Gesù, leggendo quel testo, abbia capito che quel profeta parlava di sé. Quel testo Gesù quel giorno lo ha sentito davvero che tratteggiava il suo ministero e mentre lo leggeva Gesù ne ha preso coscienza profonda e mentre annunciava questa legge mosaica, il regno di Dio che arriva, in realtà lui ha capito che quel testo parla di sé e quindi era una parola che era stata incapace di raggiungere l'uomo per colpa di questi uomini che erano profeti, falsi profeti di una parte di Israele che si era chiuso con l'intelligenza. Invece Gesù quel giorno sente che quel testo descrive la sua missione. È una parola capace di trasformare ogni realtà. Ecco perché Gesù dice oggi questa scrittura è portata a compimento nelle vostre orecchie. L'orecchio nella Bibbia è sempre l'organo che indica l'intelligenza e Gesù prende coscienza che il regno di Dio arriva proprio nella sua persona. Potremmo dire che per opera dello Spirito Santo questo giorno di Nazareth definisce l'autopresentazione di Gesù. Al battesimo è il padre che lo ha rappresentato. Ora è Gesù che condotto dallo Spirito si autopresenta. È lui questo profeta. È lui che viene ad annunciare ai poveri il lieto annuncio. Ai prigionieri, domenica scorsa ricordavamo i nostri amici detenuti, è venuto ad annunciare anche ai prigionieri un annuncio lieto di liberazione. Ai ciechi annuncia la luce, agli oppressi la libertà. Insomma Cristo è un dono di Dio per tutti. Capite che l'annuncio è forte e ogni risposta è possibile. E come reagiscono i presenti dopo aver assistito a questa lettura così forte? C'è meraviglia per un verso e indignazione per l'altra. C'è gente che si dispone al suo ascolto e gli danno testimonianza che veramente in Gesù abita Dio. Altri invece che dubitano della sua attendibilità. Altri che spettecolano dicendo ma non è solo il figlio di Giuseppe chi crede di essere il grande teologo, il grande profeta, con quale autorità viene a dire tutte queste cose. E queste due fazioni lo accompagneranno per tutta la vita. Fino a quell'episodio pasquale quando alcuni crederanno in lui, tanta gente lo accoglierà a Gerusalemme, tanti lo vogliono crucifisso. E ancora una volta, vedete, il Vangelo ci ricorda, direbbe il nostro evangelista Giovanni, venne tra i suoi ma i suoi non lo hanno accolto. Siamo messi davanti a una scelta oggi. Accogliamo Cristo come nostro Salvatore? Abbiamo fede in Lui? La nostra vita è centrata su di Lui? Perché se è centrata su di Lui noi abbiamo trovato il nostro oggi, cioè il Kairos di Dio, il tempo di grazia. Chi ha incontrato Cristo è già entrato nel regno. Quindi padre Ernesto, questo di oggi è un giorno consacrato al Signore, non di tristezza ma di gioia che dà forza e questa forza è la forza della fede. Non solo, ma questo testo ci dà anche un'ultima informazione che vorrei dire. Noi cristiani abbiamo preso dalla lettura sinagogale proprio il ciclo dell'anno liturgico in un certo senso, perché dovete sapere che nella sinagoga, ogni anno più o meno ci sono 52-53 sabati, in tre anni circa sono 160, nella sinagoga veniva letta il loro Vangelo che è la Torah e poi la lettura profetica. Noi abbiamo preso da loro questa ciclicità, noi abbiamo i tre cicli A, B e C ma l'anno liturgico è sempre Cristo perché Cristo, il Vangelo è la chiave di lettura di tutte le scritture. Quindi è un episodio bellissimo quello di oggi che ci ricorda come, lo dice anche Papa Francesco, sia importante insegnare ai cristiani la lettura orante delle scritture, la famosa lezione divina. E Giovanni Paolo II, che è santo, diceva che non c'è vita religiosa se non c'è lezione e con Lazio, cioè se davvero questa lettura orante delle scritture non accompagna le nostre comunità. Sia anche questo veramente, come dire, l'augurio che oggi facciamo a tutti i cristiani, la lettura orante della scrittura, da soli e in comunità, perché solo il Vangelo, che è il lieto annuncio di salvezza, dona fede, come insegna Paolo nella Lettera dei Romani al Capitolo X, perché solo sul Vangelo noi possiamo davvero costruire la nostra piena umanizzazione. E noi con te, proprio per questo, siamo graziati, concedicelo Padre Ernesto. Certo, graziati, è vero. Lo dice Paolo nella Lettera degli Efesini, siamo resi graziosi come Maria è stata salvata fin dal principio. Noi siamo salvati attraverso questa parola potente che poi è diventata carne, sacramento. Quindi davvero, oggi domenica c'è questo evento meraviglioso che è la Pasqua della settimana. Già, e siamo un popolo salvato dalla presenza vera di Cristo in ogni Eucaristia. Grazie a te Padre Ernesto. Grazie a voi, buona Pasqua della settimana. A te, di cuore, alla prossima. Shalom. Shalom. A te, di cuore, alla prossima.